Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 30 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giocosi e disinvolti, ma liggia le regole. Per metà il merito va al vostro carattere, già di suo entusiasta e festaiolo, per metà alla Luna e a Marte, armonici tra loro e per di più legati da un sestile realizzativo, in grado di sfatare la confusione e l'inconcludenza di Nettuno in quadratura. Iniziative forti sul piano lavorativo, nonostante la lentezza dei mezzi, vi presentate puntuali a un appuntamento, in tempo utile per concludere a vostro favore una trattativa farraginosa. Disinvolta e piccante l'intesa di coppia, simpatica anche la serata, senza pregiudizi di sorta, ciascuna vale per quello che è ed ha quello che può. Questa significa giustizia sociale. Qualche discussione coi figli che rivendicano più spazio, lasciateli fare ma dettate delle regole coerenti, decise di comune accordo con l'altro genitore. La coppia ha alla base una manzanza di affetto, di desiderio, di amore di cui ben presto potrebbe risentirne. Il rapporto è trascinato per inerzia e mantenuto in piedi solo dall'ostinazione di uno dei due partner. I partner si disilludono e aprono gli occhi sul loro rapporto e sulla sua genuinità. I single si accorgono di aver riposto le loro speranze in persone poco interessate o comunque hanno fantastico molto più del concesso. Un email o un sms importante per voi in mattinata. Attenzione ad un pagamento che dovreste fare. State procrastinando troppo. Gli amanti segreti farebbero bene a guardarsi le spalle, una persona invidiosa che ne ha conoscenza o ne ha il sospetto vorrebbe spifferare il tutto a chi non deve sapere. C'è un buon margine di riuscita in quello che farete oggi, particolarmente sul lavoro potreste avere degne manifestazioni di stima e cogliere qualche successo personale. Piccoli disguidi. Diverbi con i parenti. Non perdere la pazienza. Fai soltanto ciò che ti fa piacere. Dedica più tempo la riposo e alla lettura. Concentrati di più su quello che stai facendo. Amore ingarbugliato e confuso, i mati di giovedì risentiranno molto di questa confusione al punto che preferiranno rimandare problemi, commettendo un errore. Una situazione particolare richiede grandi sacrifici e grande spirito di adattamento, potreste incontrare nella prima mattinata delle difficoltà, ma dal tardo pomeriggio la situazione volgerà sicuramente in meglio. Una persona molto discreta nutre del tenero per voi, non vi siete ancora accorti di questa persona che vi segue nell'ombra e che non riesce a dimostrarvi apertamente quello che prova per voi. Sul lavoro avrai accanto delle persone veramente valide che ti dimostreranno la loro dedizione venendo incontro alle tue necessità. Aspettate una notizia che potrebbe cambiare le cose. Portate pazienza e non innervositevi inutilmente. Il calore degli affetti e la sicurezza che dà il focolare casalingo rappresentano il vostro ideale talismano di cui vi dotate quotidianamente. Oggi giove negativo può allontanarvi temporaneamente per ragioni di lavoro o per impegni di vario genere, dal vostro nido. Recupererete, poi in serata, una ritrovata armonia con genitori e, eventualmente anche con i figli. La forma fisica è davvero smagliante e gratificata da un felice aspetto della luna in acquario, in angolo benefico specie se siete nati in dicembre, a darvi un ottimo tono muscolare, una bella prontezza di riflessi, un colorito sano e naturale. Finalmente una bella giornata con Marte in ariete, segno foco uso intrigono al vostro e con la mediazione della luna acquariana velocità, grinta e tempismo oggi toccano massimi livelli. Tempestivi e vincenti sul lavoro, imbattibili in affari e a scuola velocisti anche in viaggio, oltretutto senza rischi, né per voi né per chi vi sfreccia di lato o vi incrocia, riflessi pronti e buona concentrazione vi proteggono da qualsiasi guaio. Amore ed eros. Su di giri in famiglia, con il partner appassionato ma oggi anche un filo litigioso e soprattutto coi figli, teste calde come la vostra non sopportano imposizioni, anche voi del resto alla loro età, ma ora che siete responsabili della loro crescita e del loro futuro successo, vi alterate sgridandoli, senza neppure preoccuparvi di abbassare la radio della vostra voce. È una giornata provvida di emozioni e, se siete single, un Saturno, pur contrario dai pesci, fa da formidabile stimolo per mettervi in gioco. Conquistatori nati, riuscite a espugnare cuori impavidi e dediti alla solitudine. Per ricompensarvi potreste concedervi qualche piccolo lusso e volerlo condividere con la persona che avete incontrato. Lavoro e denaro. Giornata favorevole per avviare nuovi contatti, presentare progetti, insomma rendersi visibili. Anche gli studi si concludono bene, magari ancora alle prese con una volata finale, ma con l'energia e la grinta che ci mettete la promozione ve la sentite già in tasta. Diversamente va se gli studenti sono i vostri figli, per garantire loro buoni risultati quanto vi tocca sgolarvi fino all'ultimo giorno. Uno spostamento o un viaggio per ragioni di lavoro occupa i vostri pensieri e vi fa organizzare poi tutta l'intera faccenda con colleghi che condivideranno questa impresa con voi. Perché è una giornata in cui mettete in moto il vostro dinamico ottimismo, i pianeti vi mandano infatti benedizioni celesti a piene mani e voi ne approfittate pienamente. Benessere. Adrenalina a mille masse sport, lavoro e amore non bastano ancora scaricarla, godetevi un bel film d'azione, un dibattito o una birretta tra amici, ottima scusa per tirare tardi chiacchierando. Avere troppa energia disturba come non averne affatto. Denaro. Attivi. Nel voler mettere i vostri soldi in una situazione di guadagno, vi preoccupate di chiedere, a chi di dovere, come e quando sistemare le vostre sostanze, accuratamente risparmiate per il meglio. Per lei, sicure dei sentimenti del vostro lui vi godete la compagnia senza crearvi problemi, giudizi e chiacchiere non vi scalfiscono. Per lui, guadagni bene investiti e affari promettenti vi danno sicurezza, facendovi dimenticare le apprezzioni passate. Fortuna al gioco ma solo per chi osa. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.